Sono 28 mesi che non si rinnova il contratto collettivo nazionale e non si rinnova perché le parti datoriali si stanno impuntando e stanno cercando di far tornare il contratto al Medioevo. A incrociare le braccia oltre 100.000 addetti in tutta Italia del settore servizi ambientali, equamente divisi tra pubblico e privato per rivendicare il rinnovo di un contratto scaduto da oltre due anni. Una protesta promossa dai sindacati di categoria che puntano il dito contro le associazioni datoriali responsabili della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. Altre richieste che fanno le parti datoriali sono che la flessibilità nel lavoro vorrebbero che fossimo tutti part time con contratti al secondo livello, primo livello che sono i contratti base per noi. Oppure poter assumere sempre in maniera interinale, ossia aumentare la percentuale di assunzione interinale che da noi c'è una certa percentuale e loro vorrebbero triplicarla. Cioè queste richieste sono assurde. Tra l'altro anche il rinnovo del contratto richiede anche una miglioria economica. Dopo 28 mesi e tre anni, il contratto dura tre anni, la parte della valuta dura tre anni, 28 mesi perciò sono parecchi anni che non si rinnova, i nostri stipendi sono indietro. E per loro dice no, a noi basta l'indicizzazione della moneta che in pratica 4 lire dovremmo prendere come aumento secondo loro, secondo noi invece no. Sono tutte queste cause che ci hanno spinto oggi a fare uno sciopero e a presentarci qui. Grazie. Grazie.